Uccidendo un uomo disarmato e seppellendolo in mare, gli Stati Uniti hanno violato la legge internazionale e umiliato la famiglia. Sul New York Times il jacuzzi del figlio di Bin Laden Omar che chiede all'ONU un'inchiesta e al Pakistan la restituzione delle tre moglie e dei figli sopravvissuti al blitz dei Navy SEALs. Dei 24 figli è quello che da tempo aveva rinnegato la scelta terroristica del leader di Al-Qaeda. Vorrei diventare ambasciatore di pace, aveva dichiarato nel 2008. Penso di poter aiutare, dare una mano al popolo e ai civili. Ognuno di noi dovrebbe essere ambasciatore di pace, non solo io o voi. Per lui che ha scelto la pace è l'uccisione del padre. Il 2 maggio infrange anche i principi di presunta innocenza e il diritto a un giusto processo. E cita i casi di Saddam Hussein e Slobodan Milosevic. Di tutt'altro tenore il messaggio via internet di Al-Qaeda che minaccia. Il peggio deve ancora venire. Le braci della jihad ardono adesso più di quando Bin Laden era in vita.